È particolarmente importante che l'Università pensi a una giornata dedicata alla carriera, Carrier Day. È un momento importantissimo sia per le persone, per gli studenti, sia per le aziende che vi partecipano perché è solamente dall'incontro tra queste due realtà che si creano grandi opportunità per il futuro. Il Carrier Day è sicuramente un evento significativo intanto perché ci dà modo di celebrare un po' i percorsi e credo sia importante, me l'ha insegnato lo sport, fermarsi quando si è fatto qualcosa di importante e riconoscerselo. Il tema di quest'anno, Be Yourself, mi è piaciuto tantissimo. È fondamentale cercare di tirare fuori quello che siamo davvero perché è solo così riusciamo a essere coinvolti. Tornare all'Università per essere premiati è una bella soddisfazione. Il Carrier Day per un'azienda rappresenta un'unica opportunità di confrontarsi direttamente con chi esce da un percorso formativo e quindi confrontarsi con le aspettative di ragazzi che si approcciano al mondo del lavoro. Credo che sia importante istituire una sinergia tra quello che è la formazione e il mondo del lavoro. È una misura in cui la formazione non si deve necessariamente piegare ma deve buttare l'occhio al mondo del lavoro sicuramente. Viceversa il mondo del lavoro deve sicuramente cogliere quelli che sono gli spunti che arrivano dal mondo della formazione per sviluppare magari iniziative di business oppure a loro volta andare oltre quello che attualmente fanno. Grazie.